Innanzitutto ti voglio ringraziare per questo festival perché oggi è una bella impresa promuovere il cinema, un cinema che perlomeno nel nostro paese è poco aiutato e quindi persone come te che invece lo promuovono, lo esaltano, lo portano alla conoscenza e lo tengono vivo, è importantissimo e ti ringrazio molto.